E' sfuggito per un attimo al controllo dei suoi genitori, finendo dentro ad una piscina gonfiabile dove ha seriamente rischiato di annegare. Una tragedia fortunatamente solo sfiorata a quella accaduta nel giorno di Ferragosto a Monopoli, dove un bambino di un anno e mezzo è finito in ospedale a seguito di un incidente avvenuto in una villa privata. Il piccolo, residente a Noi Cattaro, era in vacanza con la sua famiglia. Secondo la ricostruzione, in un attimo di distrazione dei suoi genitori, è riuscito ad allontanarsi dirigendosi verso la piscina gonfiabile per poi finirci improvvisamente dentro. Pochi istanti che sarebbero potuti essere fatali per il bambino che è rimasto sott'acqua per qualche secondo per poi perdere i sensi. Quando i suoi familiari si sono accorti dell'accaduto lo hanno tirato fuori dalla piscina prestandogli i primi soccorsi. Il piccolo è stato in seguito condotto presso l'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove i medici lo hanno intubato, prima di disporre il trasferimento all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove è arrivato nel pomeriggio di ieri. Il bambino è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del nosocomio barese. Le sue condizioni sono giudicate stabili e il piccolo non sarebbe più in pericolo di vita. Un epilogo a lieto fine, fortunatamente molto diverso dal tragico episodio avvenuto solo pochi giorni fa, l'11 agosto scorso, sempre nel territorio di Monopoli. La morte di un bambino di 4 anni, Giuseppe Cistulli, di Pezze di Greco nel Brindisino, annegato nella piscina di un parco acquatico. Tirato fuori dall'acqua quando oramai era già privo di sensi, il piccolo venne soccorso e trasferito d'urgenza sempre all'ospedale San Giacomo, ma nel suo caso ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile.